Sono la responsabile dei volontari, quindi prima del festival organizzo un po' i volontari in tutto l'ambiente, quindi in piazza, Cappella Farnese e in tutti i siti dove occorrono volontari. Questo è l'info point dove, oltre a dare informazioni, facciamo le tessere amico del festival, raccogliamo le prenotazioni per gli eventi e i volontari si occupano della vendita dei gadget, che sono le magliette, felpe, tau, cose di questo genere. Quanti volontari avete più o meno in servizio al festival? Ma almeno una ventina al giorno, almeno. Poi veniamo aiutati anche ovviamente da frati e da suore che sono in piazza con noi. E come li ha ruolati i volontari da tutta la regione? Dalla regione, dai gruppi off della regione, c'è qualcuno anche fuori dalla regione e abbiamo un gruppo di volontari fedeli che tutti gli anni un po' contattiamo per avere anche una continuità un po' sul servizio.